la virgola si adopera anche prima o dopo una posizione cioè un nome che qualifica un altro nome aggiungendo delle informazioni per esempio oggi parleremo di madrid virgola la capitale della spagna oppure madrid virgola la capitale della spagna virgola è una città bellissima ancora la virgola si usa prima o dopo un'invocazione paolo virgola non piangere oppure non piangere virgola paolo e infine la virgola si adopera per collegare gli incisi cioè quelle parole quei gruppi di parole o quelle frasi aggiuntive che possono essere tranquillamente tolte senza che per questo il discorso perda se la situazione virgola comunque virgola non è semplice oppure alessandro manzoni virgola come tutti sanno virgola era milanese quel comunque e quel come tutti sanno sono due incisi io potrei tranquillamente eliminarli senza far perdere senso al discorso non 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 non